Radio Radicale, siamo con Mario Segni perché vogliamo ricordare la figura di suo padre Antonio Segni. Lo abbiamo fatto più di una volta in occasione del suo ultimo libro sulla fake news del Gulpe del 1964. Ma noi lo volevamo fare anche oggi, visto che qualche giorno fa è stato il cinquantesimo anniversario della scomparsa di suo padre, che ha lasciato un segno nella nostra storia istituzionale, è stato il Presidente della Repubblica che ha avuto il mandato più breve, è durato circa due anni, però il suo ruolo nella nostra democrazia è stato importante, è stato Ministro degli Esteri, suo padre è Presidente del Consiglio Costituente, insomma è stato tante cose e quindi ci sembrava giusto ricordarlo adeguatamente. Allora che cosa ha lasciato Antonio Segni nella politica italiana e soprattutto con il suo garbo istituzionale, con il suo ruolo all'interno della democrazia cristiana? Vorrei ricordare che proprio in queste settimane è uscito un libro a cura della Fondazione De Gasperi, che è il carteggio tra Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio e Antonio Segni, Ministro dell'Agricoltura, negli anni dal 45 al 50, 51 più o meno, è un librone, è in grosso, ma io consiglio veramente a tutti di prenderlo e di leggerlo, perché è la storia della riforma agraria, uno dei provvedimenti più importanti della nostra storia, non ne dimentichiamoci, economica del secolo scorso, è l'unica riforma agraria che si è stata fatta nel mondo, nel secolo XX, un provvedimento di trasformazione colossale, sono stati espropriati circa un milione di ettari, sono stati creati oltre 70 mila nuovi proprietari terrieri, quindi un provvedimento che ha inciso fortemente, anche duramente nel campo della proprietà agricola, duramente anche avversato, con rilievi, con critiche, certi problemi economici non sono stati raggiunti, ma è un provvedimento che ha avuto un impatto sociale enorme, perché nel sud, è stata limitata al sud, 70 mila braccianti, che vivevano in miseria, sono diventati proprietari, quindi l'accusa, soprattutto la DC di Gasperi e i governi centristi di non aver fatto una politica sociale, di aver protetto solo i cedì forti, è veramente la più falsa che esista, e questo è il provvedimento più importante che lo dimostra. Oggi molto dimenticato, vorrei ricordarlo, io credo che siano stati due grandi statisti al cedì di Gasperi, prima di tutto Antonio Segg, e fra gli obiettivi che hanno fatto e realizzato c'è una gigantesca riforma agraria del sud d'età. Senta, suo padre era un uomo moderato, allora questa è considerata storicamente anche una riforma di sinistra, allora la democrazia cristiana che era uscita dalla Costituente sentiva la necessità di un'azione riformatrice nel nostro paese che potesse cambiare, diciamo, innanzitutto questo aspetto della vita sociale del nostro paese e che a farlo furono con maggiore impegno persone dell'area moderata della DC. Assolutamente, è proprio vero questo. Ricordiamo per esempio l'azione di Fanfani, il piano casa, la creazione di un numero enorme di alloggi proprio per le classi più povere. Guarda, io credo che il periodo de Gasperiano, cioè i primi dieci anni sostanzialmente della nostra Repubblica, siano i migliori dell'Italia, veramente. Una generazione di statisti straordinari anche in cui l'Italia con un'enorme capacità, serietà, impegno. Insomma ci sono stati due momenti straordinari nella nostra storia secolare, quando Cavour ha creato l'Italia e quando dopo la guerra de Gasperi e il gruppo di democristiani che gli stava tolto, l'ha ricostruita dopo la distruzione bellica e vent'anni di dittatura fascista. Mio padre Antonio Segni fu tra questi. Sono commosso e felice di ricordarlo. Vuole dire qualcosa sul fatto che oggi, ecco lei ha citato la riforma agraria e il piano casa di Fanfani, oggi questo tipo di grandi riforme non vengono fatte, nel senso che si pensa a micro provvedimenti, ma non a grandi riforme, si pensa al bonus. Allora, com'è cambiato questo tipo di prospettiva riformatrice nel nostro paese? Beh, è cambiato il mondo e quindi l'Italia profondamente. Oggi le nuove sacche di povertà e di emarginazione possono essere create dalla crisi economica, dalla recessione, si arriva dalla disoccupazione e quindi oggi il problema è combattere perché l'Italia abbia una ripresa economica e eviti guai e riesca a resistere ai problemi mondiali, come la guerra che ci sono, tutte le conseguenze che hanno. Quindi è il momento non delle riforme dirette a questo campo, perché secondo me servono a poco, anzi qualche volta servono a spendere un mucchio di soldi sbagliati. Sono molto contento che il governo Meloni abbia cambiato il reddito di cittadinanza, che è stato un profondamente sbagliato. che ha aiutato il lavoro nero e ha tolto agli italiani, molti italiani, la voglia di lavorare. Diciamocelo francamente. Quindi questa è la situazione di oggi. L'Italia di oggi è un compito difficilissimo, è un compito difficilissimo, evitare la crisi economica e sociale in questa difficilissima situazione. Suo padre è stato anche presidente del Consiglio in momenti cruciali della storia del nostro paese, sia per il processo europeista, ma anche nel periodo dei grandi sommovimenti, come per esempio la rivolta ad Ungheria. Allora, che cosa ricorda di quella seconda fase che aveva preceduto l'apertura a sinistra, soprattutto per il processo di integrazione europea nel MEC? Beh, guardi, il mio governo e i miei padri furono due governi felici per le capacità dei governanti e anche perché le condizioni furono favorevoli, naturalmente. Alla fine, lei ha ricordato certamente l'ingresso in Europa, è stato uno degli atti più importanti della nostra storia, ma il secondo governo, alcuni dopo, il governo Segni, portò, compiendo una lunga marcia dell'economia italiana, a dare alla lira il famoso record di stabilità. Continuò su, erano attivi nel PIL degli italiani, 6-7% all'anno per 15 anni, una cosa straordinaria. L'Italia diventò un paese un po' importante, proprio in quegli anni. Quindi, i 15 anni della migliore stagione italiana, iniziati con il 45, e così chiusero, secondo me, con la caduta del secondo governo Segni. Certo. Senta, vuole dire qualcosa sul rapporto che suo padre aveva con Moro? Diciamo, a un certo punto, quando poi si stabilì che suo padre sarebbe stato candidato alla presidenza della Repubblica, che cosa aveva in mente Moro, e soprattutto com'era l'intesa con suo padre. Guardi, fu un rapporto sempre personalmente di grande e reciproca stima e fiducia. Moro appoggiò decisamente, sia perché pensava che Segni potesse essere un punto di equilibrio rispetto all'accordo con i socialisti, e sia perché era un'affermazione della democrazia cristiana, che non aveva mai eletto un presidente, pur essendo un partito largamente di maggioranza relativa. E questo allora era molto sentito in quel momento. Poi ebbero divergenze politiche forti, naturalmente aperte, leali, combattute. E io credo che Moro abbia precipitato le cose nell'accordo con i socialisti. che ha accelerato troppo, che portò a crisi economiche e sociali e anche politiche molto gravi, e stava alla fine per concludersi con il compromesso storico, che sarebbe stata una tragedia nazionale, secondo la mia visione. Se si fosse continuata la politica centrista per alcuni anni, l'Italia sarebbe avuto camminato molto meno. Suo padre era preoccupato per la situazione economica nel 1964. Allora c'è stato un momento in cui sembrava che addirittura il nostro paese non riuscisse a onorare i suoi impegni economici. Allora quanto era atteso suo padre in quel periodo, diciamo, molto delicato di apertura a sinistra? E soprattutto le chiedo, insomma, sappiamo che Saragat era un suo avversario, quanto, diciamo, alimentò le tensioni in quel periodo? No, Saragat era una reazione dei miei padri, ma ebbero sempre rapporti molto amichevoli, molto concordiali. Anche Saragat era una della generazione degasperiana, una resente democristiana, assolutamente. La situazione economica in quegli anni fu difficilissima, non difficile, ma difficilissima. E tra l'altro c'è una storiografia, che, parlando del famoso piano solo, vi ho ricordato prima il libro che ho scritto, attribuisce semplicemente ai poteri forti, alla difesa di alcuni interessi, le preoccupazioni, ma non solo di segni, ma di gran parte del paese per la politica che volevano portare i socialisti. Io voglio ricordare a tutti una cosa, il principale sostenitore della politica di austerità, e quindi quello che richiedeva ad alta voce e il cambiamento della linea di governo, era Carli, un governatore della Banca Italia, un uomo che non può essere certo accusato di essere destra, di essere un conservatore, di essere legato a cui presunti poteri. Ho ricordato il mio libro, una cosa che ho trovato, dalle memorie di Giolitti, il ministro socialista di quel periodo, Carli andò a trovarlo, a trovare Giolitti, e gli regalò due banconotte da 20 miliardi di marchi, che erano banconotte emesse nella famosa Repubblica di Marchi, Esatto, che poi portarono a un disastro, come ben sappiamo, portarono a Hitler, e Carli gli disse se non cambi politica finiremo anche noi così. Questo per dire qual era la convinzione di Carli che fosse un momento pericolosissimo e la necessità di cambiare. Credo che in qualche modo, anche se poi il governo fu mantenuto come prima, Carli riuscì sostanzialmente a congelare le riforme che erano nobili come intenti quelle dei Giolitti e dei socialisti, ma purtroppo erano totalmente sconsiderate rispetto alla situazione. Senta, il suo padre fece, quando era Presidente della Repubblica, un messaggio alle Camere per impedire che, cioè per chiedere una riforma in modo che il Presidente della Repubblica non venisse eletto due volte. Allora, le volevo chiedere lei come ha vissuto la rielezione di due Presidenti della Repubblica per un secondo mandato, sapendo che l'idea di suo padre era abbastanza chiara. Io stesso non avrei dubbi che se qualcuno avesse proposto a suo padre la rielezione suo padre avrebbe rifiutato. Beh, erano momenti anche molto diversi. Beh, guardi, il primo che ha detto che era una riforma ottima è stato Mattarella in tempi recentemente. Mattarella, l'ha ricordato, ha motivato il suo desiderio di non rielezione con questo. Poi io non so come si è andata a te le cose, è stato costretto a cambiare idee, ostiva molto Mattarella, quindi però su questo ha manifestato più volte pubblicamente. Io credo che sarebbe una riforma utile, sette anni sono lunghi. un'ultima cosa che cosa pensa che abbia lasciato suo padre nella politica italiana e volevo chiederle che cosa ha apprezzato di più del ricordo che è stato fatto di suo padre per i 50 anni della scomparsa. Beh, subito rispondo intanto che è stato fatto al Quirinale con la presenza di Mattarella che ringrazio effettuosamente un bellissimo dibattito sul rapporto e carteggio fra Antonio Segni Presidente della Repubblica e il mondo dei costituzionalisti italiani formato di grandi personaggi come Nortati, Esposito, Teresa Fugli e così via sulla figura e poteri del Presidente della Repubblica un problema apertissimo, sempre aperto perché impone continuamente nuove questioni e quindi questo è un fatto che mi ha colpito molto da parte del Presidente della Repubblica ha detto l'ambiente del Quirinale il dibattito è stato fatto lì e lo ringrazio e sono passati 50 anni ma ha lasciato una traccia profonda nella politica italiana nelle istituzioni purtroppo appannata per molti anni dalla scellerata novella dalla scellerata fake news di Scalfari sul piano solo volevo dire lei ha ricordato il libro che ho scritto un anno fa circa lei ci aveva fatto vedere in anteprima esattamente è stata la prima pubblica voce che io ho espresso la prima intervista mi è stata fatta proprio da voi qualche giorno prima che esce lì apro una parentesi non ho avuto risposte se lei può sollecitare qualcuno di quelli che hanno scritto alcuno che ce ne cominciare da Gotoro per esempio e continuare a sostenere tutto come prima dovrebbe dire perché non mi ha risposto mi sembrano mi sembrano talmente forti gli argomenti che capisco che è difficile rispondere però dovrebbero fare quindi dopo di che è stato questo è particolare per un particolare importante c'è un grande rimpianto per la prima repubblica io credo che rimpiangere tutta la prima repubblica sia uno sbaglio perché poi è entrata in crisi sia giusto rimpiangere quella generazione da De Gasperi in poi che ha guidato per 15 anni felicemente l'Italia perché se poi seppe fare grandi riforme che oggi purtroppo fatichiamo sembra impossibile bene la ringrazio grazie per questo bel ricordo per questo ricordo di Antonio Segni che è suo padre per i 50 anni dalla scomparsa un ricordo che Radio Radicale riteneva doveroso fare grazie a Mario Segni grazie a Mario